Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter e ragazzi oggi scopriremo assieme un prodotto nuovissimo, esclusivo, che è stato rilasciato da pochissimo da Panini per celebrare il ventesimo anniversario dell'uscita cinematografica della Pietra Filosofale. E ragazzi sto parlando di questo cofanetto che vi avevo già mostrato in anteprima su Instagram, qualora non mi seguiste ancora mi trovate come chiocciolaantonio.seria e ragazzi oggi finalmente lo apriremo assieme. Questo è un cofanetto esclusivo, vi lascerò tutti i link sotto in info box per poterlo acquistare e all'interno di questo cofanetto che io trovo fighissimo perché guardate ha la costa che somiglia un po' a quella delle videocassette, comunque sembra un tomo da mettere in libreria e mi piace davvero tantissimo. E al suo interno abbiamo 21 card esclusive, quindi questa è una mini raccolta già completa così, quindi trovate tutte le card che la compongono già all'interno della box e ragazzi guardate quanto è bella questa box anche nel verso così orizzontale con la copertina della Pietra Filosofale qui al centro che è anch'essa una card che poi andremo a vedere assieme. E ragazzi all'interno come vi dicevo sono contenute 21 card divise per temi e poi abbiamo una card XXL e un booklet, quindi io direi di non perdere più tempo e di andare assieme ad aprire questa confezione e scoprire tutto il contenuto. Ed ecco qui la nostra box esclusiva del ventesimo anniversario della Pietra Filosofale. Come vi dicevo abbiamo questa bellissima box che può andare direttamente in libreria e guardate quanto è bella la costa con la P di Panini all'interno di questa fiammella e poi abbiamo Whats con i vari protagonisti. E qui abbiamo anche le date dell'anniversario 2001-2021. Sul retro abbiamo il piano della collezione che troveremo all'interno, quindi 21 trading cards, la card XXL e il magazine. Sono così suddivise, abbiamo delle carte poster dove troviamo i vari protagonisti e la carta relativa all'anniversario, poi abbiamo le carte qui con gli antagonisti, gli attori di supporto, abbiamo anche gli stunt, gli effetti, abbiamo appunto una parte dedicata alla parte più tecnica del film. Poi abbiamo anche quelle dedicate alle creature del Wizarding World, agli oggetti magici, alle lezioni, gli incantesimi, alle location e poi le scene chiave come il tranello del diavolo o l'arrivo delle lettere e poi alla fine abbiamo invece lo stemma di Hogwarts come carta finale. E appunto troviamo anche la dicitura Special Anniversary Edition. Ragazzi, secondo me è da prendere al volo perché è davvero bellissimo. Guardate la confezione, abbiamo questa card all'interno che va a simulare un quadro con addirittura sopra la targhetta Harry Potter e la pietra filosofale, ventesimo anniversario, venti anni. È davvero molto molto bella e spero che Panini farà uscire anche quelle dedicate a tutti i film successivi della saga perché è davvero un'idea e una collezione stupenda. Ma adesso prendiamo il nostro taglierino e andiamo ad aprire la confezione. Facciamo attenzione a non combinare guai, andiamo ad aprire la nostra scatola che senza la plastica protettiva devo dire che è ancora più bella. E andiamo a scoprirne subito il contenuto. Ecco qui. Abbiamo la card che avevamo visto sul fronte che può essere estratta e poi abbiamo il nostro booklet e anche la card speciale col crest di Hogwarts, quindi con lo stemma di Hogwarts. Guardate quanto è bella, quanto luccica questa card. È davvero molto molto bella. E poi abbiamo appunto i due mazzetti laterali con le altre card che adesso andremo ad aprire. Ecco qui il primo, andiamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui, giriamo dal contrario e abbiamo il professor Raptor, quindi protagonista in discorso del primo film. La locandina della pietra filosofale, poi abbiamo i personaggi quindi Hagrid, Ron, Harry, la professoressa McGranit, un primo piano di Harry piccolissimo, poi abbiamo il professor Silente, Hermione e la prima partita di Quidditch. Quindi Stunt memorabili, molto molto bello. Mi piacciono moltissimo. E adesso guardiamo anche il secondo mazzetto. Eccolo qui e andiamo a togliere i sigilli e andiamo a scoprire anche queste card. Qui abbiamo la partita degli scacchi per la card dedicata agli effetti speciali. Poi abbiamo il professor Piton, abbiamo il troll di montagna, la prima lezione dove abbiamo Simus Finegan che fa esplodere la piuma e poi Wingardium Leviosa, ovviamente non poteva mancare. Poi abbiamo il tranello del diavolo, sono molto belle queste card perché hanno i bordi in oro e argento, spero si riesca a vedere dalla videocamera. E poi abbiamo la cioccorana, ormai iconica, il castello di Hogwarts con l'arrivo degli studenti, l'arrivo delle lettere a casa dei Dursley e poi ovviamente la prima lezione di Quidditch con Madame Bump. Adesso andiamo ad estrarre anche la cartolina XXL che abbiamo qui da questa parte e guardiamola meglio. Ed eccola anche lei, card XXL e ragazzi abbiamo questa che è la locandina di Harry Potter e la pietra filosofale, vent'anni di magia cinematografica. E beh ragazzi, è davvero una pietra miliare come c'è scritto qui sul retro di questa carta, perché comunque fa parte ormai a tutti gli effetti della cultura pop di tutto il mondo, di ogni paese, perché Harry Potter è entrato nelle nostre case volenti o nolenti. In tutte le nostre case e nell'infanzia di tutti noi. Quindi è uno di quei film ormai iconici. Per esempio, per me, Harry Potter e la pietra filosofale è ormai un film natalizio da guardare assieme ad esempio a Mammo per Solerio o appunto Una poltrona per due e altri film iconici natalizi. Quindi ragazzi, ormai Harry Potter fa parte della nostra vita a 360 gradi. E poi non è ancora finita qui, perché dentro questa box troviamo anche questo booklet e vediamo cosa contiene all'interno. Non appena aperto il volume, all'interno abbiamo in diverse lingue un'introduzione a questo cofanetto e a questa raccolta speciale di card del ventesimo anniversario. Ci viene appunto illustrata la cover XXL che va a simulare un quadretto con il suo astuccio e poi la suddivisione delle varie card e quelle in foil gold, in foil silver e poi questa qui in fragmented reality panini, la Hogwarts crest, che è davvero molto molto bella. E poi abbiamo una spiegazione dettagliata di ogni singola card che abbiamo trovato all'interno della nostra collezione. Quindi in ogni lingua viene raccontato il momento che è stato scelto per rappresentare appunto quell'attimo magico all'interno del primo film. E ragazzi appunto questo è il volumetto che va a raccontarvi tutto il contenuto delle card. Io trovo questa confezione davvero super super bella, naturalmente vi lascio in info box tutti i link utili per accapararvi una copia di questo cofanetto che sicuramente merita di entrare a far parte delle nostre collezioni. Detto questo ragazzi a questo punto non mi resta che chiedere la vostra opinione sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici e ragazzi naturalmente noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.